Nella maestosa cornice della Torre Milanese che porta il suo nome, Unicredit ha presentato i dati del primo semestre 2014, figli di un'ottima seconda performance trimestrale con un rafforzamento dei coefficienti di capitale regolamentare e una solida posizione patrimoniale. E se diminuiscono i ricavi, scendono anche i costi. Cambio a livello di management con il vice direttore generale Jean-Pierre Mustier, che dal 2015 verrà sostituito da Gianni Franco Papa e l'amministratore delegato Federico Ghizzoni, dopo aver ammesso come le aspettative dei mercati nei confronti del governo di Matteo Renzi siano elevate, forse superiori rispetto ai governi del passato, tasta il polso dell'economia italiana. La ripresa è lenta, è stata anche negativamente influenzata dalle tensioni che ci sono nell'area del Mediterraneo, nella Russia, Midelista, Palestina, Israele, eccetera, e quindi non è una sorpresa. Penso che il prodotto interno lordo crescerà di pochissimo, 0,2-0,3% a fine anno, però ci sono anche alcuni segnali di controtendenza rispetto a qualche tempo fa, in particolare per esempio l'export continua a tenere, c'è la maggiore domanda di credito. Quindi non bisogna prendere tutto in negativo, ma la ripresa è certamente non facile e probabilmente è rimandata a 2015.